... 72 dei deputati Prestigiacomo e altri concernenti iniziative per un cambiamento dei modelli organizzativi del lavoro nella pubblica amministrazione in linea con le caratteristiche del lavoro agile. L'onorevole Stefania Prestigiacomo ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. A lei onorevole Prestigiacomo. Grazie Presidente. Ministro Brunetta, intervengo anch'io sulla materia del lavoro agile, dello smart working e non posso non prendere atto della risposta che è stata data al collega che mi ha preceduto e anche della sua replica. Noi siamo tutti grati alla pubblica amministrazione per il lavoro che ha svolto durante la fase acuta della pandemia, ma è innegabile che una modalità quella del lavoro agile, del lavoro da casa, che andava ancora regolamentata e incentivata e che risponde alle esigenze di conciliare famiglia e lavoro, è stata di colpo diventata la modalità ordinaria di lavoro. E questo è accaduto senza un contratto, senza controlli. L'esempio che faceva il collega circa l'Inps, siamo tutti grati all'Inps per il lavoro che ha svolto, ma ricordiamo anche gli enormi ritardi nell'erogazione della cassa integrazione. Ministro, io le chiedo di spiegare meglio cosa intende fare per regolamentare questa modalità di lavoro che è assolutamente moderna e va incentivata, ma che va utilizzata soltanto in situazioni particolari e che deve soprattutto garantire efficienza e produttività. Perché è innegabile ricordare che vi sono stati anche degli opportunismi. Mi spiace che i colleghi non lo vogliano ricordare, ma i cittadini se ne sono resi perfettamente conto. Grazie, onorevole Prestigiacomo. Il ministro per la pubblica amministrazione, onorevole Renato Brunetta, facoltà di rispondere. Ringrazio, collega Prestigiacomo. Volevo precisare che ho dato io mandato all'Aran di contrattualizzare lo smart working, perché nessuno l'aveva fatto prima. Quindi quello che si è realizzato in tutti questi mesi, nei mesi del lockdown, è stato realizzato senza regole contrattuali. Siccome io sono un vecchio socialista, un vecchio esperto di relazioni industriali e sindacali, mi sono preoccupato prima di tutto di una regola contrattuale che non c'è mai stata. Secondo punto, glielo spiego. Lei ha fatto l'esempio dell'Inps, ma l'Inps già lavorava con una organizzazione da remoto. E quindi quello che gli analisti più fini hanno evidenziato è che il lavoro da remoto ha funzionato durante il lockdown, laddove era già regolato, strutturato con una piattaforma digitale già esistente. Laddove invece, nel caso certamente dell'Inps e del bravo tridico, anche se non ha risolto i problemi, perché sappiamo tutti i ritardi. Poi, se è così fantastico il lavoro da remoto, perché cittadini e imprese sono tutti arrabbiati leggendo sugli uffici periferici degli enti pubblici e privati chiuso per smart working? Perché tutto questo? Le spiego. Mi hanno dato del neoluddista, se vuole ne parliamo, il buon professor De Masi, che conosco molto bene. Io ho cambiato i concorsi pubblici e li ho resi digitali da quattro anni in tre mesi. Stiamo lavorando alla interoperabilità delle banche dati, stiamo lavorando al cloud, stiamo lavorando a una base informatica digitale per essere in sicurezza. E voi volete proiettare un bricolage all'italiana nel futuro. Il futuro è dentro il PNRR. Il futuro è in quel 6% di crescita del Paese che ha bisogno della pubblica amministrazione, della pubblica amministrazione in presenza, della pubblica amministrazione regolata, garantita, in sicurezza, con un contratto. Questo noi vogliamo. I obsoleti e neoluddisti, siete voi, siete voi i neoluddisti, siete voi. Ned Ludd non è mai esistito. Era un mito che veniva perseguito nelle campagne inglesi da chi andava a rompere i telai meccanici perché aveva paura che questi portassero via lavoro. Ecco, i neoluddisti siete voi, cari amici 5 Stelle. Grazie. Il Governo è impegnato per costruire una base informatica per il lavoro da remoto in sicurezza e la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Quasi mi sposto nei banchi di là per la mia replica. Ministro, la ringrazio per la sua risposta che ci soddisfa e la incoraggiamo come gruppo di Forza Italia ad andare avanti. Dal nostro punto di vista, quello a cui abbiamo assistito in questi mesi è stata una modalità di lavoro emergenziale non organizzata, non strutturata e naturalmente necessita di una regolazione che lei, con la sua competenza, con la sua esperienza, sicuramente con il coinvolgimento delle parti sociali, saprà concludere in tempi brevissimi. Noi crediamo, colleghi del Movimento 5 Stelle, che queste forme di lavoro innovative vadano incentivate, ma non possono essere delle risposte improvvisate, come giustamente diceva il Ministro all'italiano. Questo ci dispiace, perché questo non offre nessuna garanzia al cittadino utente, perché noi abbiamo senz'altro garantito in questi mesi la sicurezza sanitaria dei lavoratori della pubblica amministrazione, ma non sempre abbiamo garantito una qualità di prestazione dei servizi. Quindi, Ministro, vada avanti in questa sua rivoluzione. Noi crediamo nella sua straordinaria capacità innovativa e quindi non si faccia intimidire, ma vada avanti, perché senz'altro anche i colleghi del Movimento 5 Stelle alla fine concorderanno che quello che lei realizzerà sarà una riforma per il bene della pubblica amministrazione e dei cittadini. Grazie. Grazie onorevole Prestigiacomo. Passiamo all'interrogazione 3.2473 dell'onorevole Colucci concernente lo stato di attuazione della legge 205-2015 relativa alle cosiddette società benefit.